Oggi per le mafie nella Chiesa non esistono spazi perché chi ha affiliato si autocolloca fuori dalla Chiesa. Le mafie si manifestano quale negazione assoluta del Vangelo e quanto si afferma in un comunicato della conferenza episcopale calabrese sul caso aperto dalle dichiarazioni e dal comportamento del parroco di Platì in occasione dei funerali di un presunto affiliato ad una cosca locale Giuseppe Svanera. Il presbitero avrebbe voluto funerali pubblici ma le sequi si sono svolte in forma privata e senza corte o funebre. La disposizione è giunta dal questore di Reggio Calabria Raffaele Grassi per motivi di ordine pubblico. L'assastinio di padre Pino Puglisi e la sua beatificazione, afferma il presidente della conferenza episcopale calabra Monsignor Vincenzo Bertolone, hanno fatto piazza pulita di vecchi equivoci per i quali spesso e volontieri, nonostante le indicazioni del Magisterio e contrariamente al dettato evangelico, veniva tollerato che strutture di peccato come le mafie trovassero una certa comprensione da parte della Chiesa, quel tempo è passato. La Chiesa ribadisce con profonda convinzione, dice ancora il presule, citando un brano di testimoniare la verità del Vangelo, nota pastorale sull'andrangheta della CEC numero 14, il rispetto e la stima che ha sempre avuto per le istituzioni dello Stato e soprattutto per la magistratura e le forze dell'ordine. Ma nello stesso tempo la Chiesa ricorda che la sua missione non sempre può coincidere con l'azione inquirente o punitiva propria dello Stato. Per le mafie, nel nostro caso per l'andrangheta, nessuno spazio può esservi nella Chiesa, pure per questo siamo certi che l'ordinario diocesano, competente rispetto ai fatti di Platì, saprà adottare ogni opportuno provvedimento per ribadire l'inconciliabilità netta e radicale tra Vangelo e Cosche. Rosaria Giovannone per la CNews 24